Furore artistico Non la situazione, come quella volta, in cui mancò poco facessimo l'amore in quella notte stregata di luna piena, il massimo dell'estasi e dell'offerta. Feci anche altri disegni, nei quali esprimeva sofferenza, terrore, preoccupazione, speranza, tutti inerenti ad esperienze negative in cui incappammo, specialmente nei primi tempi del nostro soggiorno. Non glieli mostrai mai, li sistemai nella valigetta insieme a quelli riguardanti la montagna scura. Anche se partivo con sfondo bianco, inevitabilmente mi trovavo a riempirlo con qualcosa, e regolarmente ne valorizzavo l'espressione. La prima volta che la disegnai nuda successe una cosa che mi stupì. Come la mano si muoveva sul foglio e la figura prendeva forma, un grande piacere interno mi pervadeva nel vederla sbocciare. Non mi sentì più colpevole.